Ciao Dreamers! Oggi parleremo di tutte quelle volte che non ci siamo sentiti mai abbastanza. Spesso questo non sentirci mai abbastanza è proiettato verso una o alcune persone in cui ci sentiamo costantemente in difetto. Spesso quella persona o quelle persone sono quelle che riescono sempre a farti pensare che tu non meriti di essere felice, che tu non meriti le loro attenzioni, o il loro affetto o il loro amore. E tu per quella persona fai di tutto e poi immancabilmente questa riesce a trovare i difetti in ogni gesto che tu fai e così riesce ad annullare completamente tutto l'entusiasmo che hai per quel gesto che hai fatto. E così nel tuo cuore si annulla quel valore che tu avevi dato a quell'attenzione che hai donato e subentra quella sensazione di non sentirsi abbastanza, o meglio, di non aver fatto abbastanza. E così ci sono quelle persone che sono brave a capire magari quel lato insicuro che noi abbiamo e così se ne approfittano mettendo costantemente il dito nella piaga. Riescono a darci poche attenzioni per farci sentire sempre un po' in difetto, ma mai così poche da costringerci ad andare via. Ci tengono lì, sempre sospesi su un filo, sempre un po' in allerta, sempre come se fossimo sotto giudizio. E diciamocelo, è brutto quando una persona a cui tieni molto non ti fa mai sentire abbastanza. È brutto quando non apprezza i gesti che fai e non ti dà la gratifica di ammettere che quello che tu hai fatto per lei è qualcosa di importante e di bello. Quando magari tu aiuti una persona e questa non ti scredita, però nemmeno ti ringrazia. Ti fa quasi capire come se avrebbe potuto cavarsela anche da sola e che in fondo il tuo aiuto non è stato neanche così fondamentale. Anche in quei casi in cui quella persona sa perfettamente che senza il vostro aiuto non sarebbe mai uscito dalla merda. Provate a pensarci un po' come quando vai a scuola. Magari hai il compito in classe di inglese, però per te inglese cazzo è un po' la bestia nera, quella che fai fatica magari ad apprendere. Quindi tu studi tutta la settimana, studi di brutto, arrivi al compito in classe, lo fai e prendi sette. Cazzo per te sette è un risultato incredibile. Quindi torni a casa tutto contento, vai dai tuoi e gli dici che hai preso sette. E magari i tuoi ti rispondono, beh hai fatto semplicemente il tuo dovere, oppure beh potevi prendere otto. A quel punto lì, ditemi la verità, quando non vi sentite abbastanza in quel momento vi cade il mondo addosso. E tu a quel punto ti senti una merda, perché dici cazzo forse potevo dare di più. Quando magari tu invece con tutte le difficoltà del caso hai dato veramente il massimo e sei riuscito a strappare quel sette, che in definitiva è un gran voto. Io non dico di accontentarsi, perché io sono uno di quelli che non riesce mai ad accontentarsi e pensa sempre, forse avrei potuto fare di più. Però dreamers, quando sapete di aver dato il massimo e di aver raggiunto comunque un ottimo risultato, anche se quello non è la vetta dei risultati, fa un culo. È già più che abbastanza. Dobbiamo secondo me imparare a toglierci, è difficile, è complicato. Io sono uno di quelli che molto spesso non si sente abbastanza, nelle situazioni, nei confronti delle persone, perché sono sempre abituato a fare tanto. E quindi quel tanto penso che potrebbe essere ancora di più. Però dovremmo imparare a capire che quel tanto che diamo agli altri è qualcosa di importante per noi. Perché spesso quando tu dai tanto agli altri, stai levando qualcosa a te. E levare qualcosa a te ha un valore molto forte, soprattutto se lo doni agli altri. Quindi eliminiamo quelle persone che non ci fanno sentire mai abbastanza, che non ci danno mai una gratifica, che non dicono mai bravo. Che poi uno non fa le cose perché vuole avere quel bravo. Non è che quel bravo è un premio e quindi uno fa le cose proprio perché vuole ottenere quella gratifica. Però io credo che quella gratifica sia importante per valorizzare il gesto che tu stai facendo. Mentre credo che l'indifferenza o lo screditare ogni gesto che fai sia veramente brutto da parte di una persona che sa di ricevere così tanto da voi. Perché queste persone psicologicamente sanno di avere un potere su di noi. E quindi è lì la malafede. Non è il risultato, quindi la gratifica che ci fa piacere. Ma è proprio la malafede di voler manipolare a volte le persone e non farle sentire abbastanza in modo tale che queste persone rimangano sempre lì ferme per noi e facciano di tutto e forse anche di più di quello che dovrebbero fare. Quante volte ci siamo ritrovati a rimanerci male? Provate a pensarci, ma a pensarci veramente. Tutte quelle volte che magari avete fatto qualcosa veramente col cuore, dall'altra parte avete trovato un muro. Avete trovato una persona che vi ha guardato, non dico con disprezzo, ma mai con un sorriso. Qui non si parla di essere ripagati con soldi o beni materiali, ma con semplicemente anche solo un sorriso che ti fa capire quanto comunque quel tuo dare ha avuto un senso di benessere per l'altra persona. Quindi proviamoci per una volta ad impegnarci e a sentirci anche abbastanza. Abbastanza nei confronti delle altre persone, ma soprattutto abbastanza per noi stessi. Dreamers, fatemi sapere se anche voi siete tra quelli che fanno fatica a sentirsi abbastanza. Lasciatemi dei commenti per farmi sapere quali sono le vostre storie e qual è il vostro percorso che state facendo per cercare di sentirvi abbastanza. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella per tutte le notifiche, seguitemi su Instagram, officialdido, stiamo crescendo di brutto, grazie davvero di cuore. Se sei un brand o un dreamer e vuoi spedirmi qualcosa, stiamo lanciando la nuova iniziativa unboxing. Dammi il tuo numero che ti chiamo, guardate in descrizione ci sono tutti i dettagli. E anche per oggi è tutto, buon viaggio dreamers!